Lui dov'è, Timay? Dov'è chi? Non giocare con me, tuo figlio. I miei figli non ci sono. Cosa vuole da loro? Ci stai mentendo? No, signore sceriffo, sono andati via stamattina. Sono andati verso ovest, in California. Sì, è così. Diamo fuoco alla casa! Diamo le fuoco! Non permetta di dare fuoco a casa mia. Abbiamo fatto molti soldi col mio locale. Vada come parli.